Emance Power Sports Emance Power Sports è un antigelo ad altissime prestazioni per moto due tempi e quattro tempi e viene prodotto in due versioni, adesso andremo a vedere le differenze Power Sports è per motori due tempi e quattro tempi utilizzati in ambito off-road quindi parliamo di enduro, quad, motocross, trial ecc mentre Power Sports R è maggiormente specifico per moto stradali cioè utilizzate su asfalto, quindi sia in ambito normale che da competizione entrambi si utilizzano, come appena detto, sia nelle gare che per un utilizzo normale e hanno prestazioni molto più elevate rispetto ad un antigelo normale hanno un punto di ebollizione al di sopra di 180 gradi e un punto di congelamento al di sotto di meno 40 quindi l'operatività, il range di operatività è di ben 220 gradi da meno 40 a più 180 quindi questo già fa capire come Emance in pratica non subisca nessun fenomeno di ebollizione per cui il circuito rimane sempre alla giusta pressione, senza eccessi senza eccessi quindi anche di temperatura perché più pressione uguale più temperatura, maggiori temperature quindi l'affreddamento è sempre costante sulle superfici metalliche quindi Power Sports ambito off-road Power Sports R ambito, diciamo, stradale su asfalto Emance è completamente privo di acqua quindi non crea nessun fenomeno di corrosione, cavitazione, incrostazioni, ecc quindi il circuito rimane sempre perfettamente pulito è importante prima di mettere Emance eseguire l'eliminazione dell'acqua dal circuito cosicché si possano avere le massime prestazioni di raffreddamento a tal proposito c'è Emance Prep Fluid questo prodotto che vedete qui in primo piano è un prodotto microscopico si mette dopo aver svuotato il circuito con il vecchio antigello lo si riempie, basta due terzi, non occorre riempirlo tutto si riempie con Prep Fluid il circuito poi si accende il motore per alcuni minuti e Prep Fluid è in grado, diciamo così, di raccogliere appunto tutta l'acqua presente nel circuito poi si procede allo svuotamento e poi si mette infine Emance Power Sports nella una delle due versioni a seconda del veicolo che avete ad esempio su Quad e Motoslitte consigliamo Emance Power Sports perché è più specifico appunto per veicoli utilizzati in ambito fuori stradistico quindi abbiamo detto le principali caratteristiche di Emance ebollizione a 180 gradi punto di congelamento al di sotto di meno 40 totale assenza di acqua e un ultimo fattore un'ultima caratteristica estremamente importante ha una durata di ben un milione di chilometri o 20 anni quindi un prodotto parliamo proprio di un prodotto fuori categoria molto più performante rispetto ai comuni antigelo e lo trovate nel nostro store online autogold.it una piccola nota finale spesso ci viene chiesto se ci sono problemi tecnici nel caso si utilizzasse ad esempio Power Sports in una moto stradale o Power Sports R in una moto off-road assolutamente non succede assolutamente nulla quindi se avete preso l'uno al posto dell'altro diciamo erroneamente non c'è alcun problema tecnico potete utilizzarlo senza alcun problema e soprattutto sfruttando pienamente le grandi caratteristiche di Emance un saluto a tutti da autogold.it è un saluto a tutti Grazie a tutti.